Infinite distese di neve, cristalli di ghiaccio e boschi incantati. Nagio Wild accende il Natale e vi porta dove la magia apprende vita. Dalle montagne del Giappone fino al Grande Nord. Con Wild Christmas il Natale è più vero che mai. Dal 21 al 25 dicembre dalle 16. Solo su Nagio Wild. Grazie a tutti.